Ben trovati, siamo ad una nuova puntata di Alimenti Ferma Tempo in compagnia come sempre di Gianpaolo Tocco. Benvenuto Gianpaolo. Ben ritrovati tutti, ben ritrovata Barbara. Tutto a posto? Tutto a posto, anche lei? Siamo nel pieno dell'estate, tra poco dovremo dire anche addio a questa stagione così calda che però qualche disagio ce lo procura, come per esempio la mancanza di energia. Che cosa fare? Allora in genere per risolvere un problema, ecco qua mi viene in mente il mio socio e dice Gianpaolo quando ti fanno una domanda potresti per piacere rispondere alla domanda e non partire dal 1500 venendo rispondere alla sua domanda. C'è qualcosa da fare, però è un concetto che governa la mia vita. Io non mi faccio prendere la testa e non mi faccio prendere dal panico quando c'è un problema. La prima cosa che faccio è tentare di capire qual è il problema. La seconda è capire chi lo genera. La terza è come colpire la causa che genera il problema. Se no non è mai finita. Se no ci si muove come mosche senza testa. Presente le mosche che vanno in giro a sbattere contro i muri. Si lasciano prendere, cosa faccia? Bevi il caffè? Allora cominci. Caldo, il caffè? No, il papaya. No, l'ananas. No, ha detto quell'altro medico, ha detto meglio le fragole. No, quel fragole no. No, siccome gliel'ho già detto, la verità è una bugia non ancora scoperta. Il mondo, l'umanità scopre. E quando scopre qualcosa non lo fa in mala fede, dandoci consigli. Ci dà consigli in base a quello che ha scoperto in quel giorno. Il giorno dopo si scopre qualcosa di nuovo e ti rendi conto che la verità del giorno prima è una bugia. Scoperta il giorno dopo e ti danno un'altra verità che è un'altra bugia che verrà svelata il giorno successivo e così per l'eternità. Perché? Perché la verità assoluta l'uomo non la conoscerà mai. Perché l'universo non è un giochino. La complessità del creato non è un giochino. Il creatore non gioca a dadi. Il creatore ha un'intelligenza matematica strepitosa che noi non possiamo conoscere. Noi possiamo al massimo trovare, scoprire piccoli rimedi quotidiani che domani cambieremo perché scopriremo che non andavano bene. Ma ci sono verità quasi assolute. Io ne dico una. La natura non sbaglia mai. La natura non sbaglia mai. Sbaglia la natura quando l'uomo si raffronta, si rapporta con la natura in maniera arrogante, presuntuosa. La medicina è una scienza esatta. Posso spanciarmi da ridere? La medicina è una cosa meravigliosa ed è un tentativo di scoperta di un mondo misterioso e immenso che si chiama biologia. Studio della vita. Noi sappiamo un miliardesimo di un miliardesimo delle verità della creazione. Però quelle verità che conosciamo usiamole. Perché con il caldo siamo stanchi? Se io non so perché sono stanco, io un giorno prendo il potassio, un altro il magnesio, poi sento la dottoressa che dice una roba, poi quell'altro che c'è i fulmini, quell'altro che dice no, probabilmente le ranocchie. Tutto, tutto influisce sulla nostra vita, tutto. Ma ci sono cose determinanti. Lo stress ossidativo e qui vado fiero. Sono 30 anni che rompo le scatole con questo concetto, ma mi piace vedere ultimamente tutti... Io sono un tecnico, ricercatore, arborista, vado in cerca delle erbette. Non sono lo scienziato. Però, guarda caso, negli ultimi anni io vedo copiarle le frasi, le domande che farei intelligentissime, e vedo copiare un po' i concetti umili che esprimo io. E cioè che lo stress ossidativo è il peggiore di tutti i mali. Cosa c'entra lo stress ossidativo con la stanchezza? Beh, è semplice. Basta prendere in mano un libretto di biologia o prendere in mano un libretto della Blackburn che ti spiega esattamente perché la stanchezza e lo stress ossidativo e il caldo. Ecco perché la sua domanda è ottima. Dice Tocco, la invitiamo, venga che parliamo del caldo. E uno pensa, cambieremo argomento, finalmente Tocco ci parla del caldo. E torna qua Tocco e mi ripete la storiellina dello stress ossidativo. Questo dimostra che c'è coerenza nello studio scientifico della Blackburn. Il caldo innesca stress ossidativo. Perché mette sotto stress? Significa rompersi. È un termine che viene dalla siderurgia. Metto sotto stress una barra d'acciaio, vedo quanti chili tiene. Nel momento in cui si stressa, si spacca, so che quella sbarra poteva tenere una tonnellata. Nell'organismo è uguale. Metto sotto stress l'organismo con i campi elettromagnetici, con le micropolveri, con l'alimentazione, con le preoccupazioni. Lo metto sotto stress e voglio vedere quando si rompe. Alcuni si rompono subito. E li vede perché invecchiano in faccia, invecchiano, sono stanchi, sono deboli, sono fragili, si ammalano facilmente e compaiono i dolori. Lo stress ossidativo ha innescato un processo demolitivo in quell'organismo. Come? E qui ci sono i ricercatori che te lo spiegano. Comporti è stato un grande di questi, ma ce ne sono tantissimi. Il caldo è uno di quei fattori che innesca stress ossidativo. Cioè, stress ossidativo, l'esercito di ossidanti che entra nel mio organismo, fumo, alcol, ossidano. Il redberry selvatico è un antiossidante. Lo stress ossidativo è quando io ho nel mio corpo più sigarette, più alcol, più preoccupazioni, più rotture di scatole, più inquinamento di quanti antiossidanti abbia introdotto. Si spacca, perde la guerra. Sono più i nemici che l'esercito che difende. Hai perso la guerra. Nel caso dell'energia è ancora più spiegato il caldo innesca stress ossidativo. Lo stress ossidativo agisce nelle mie cellule, modificandole. Anziché produrre energia, producono radicali liberi. Killer. Immagini degli omini, degli scarafaggetti piccoli, che vengono prodotti dalle cellule sottoposte al grande caldo, quindi a stress ossidativo e anziché produrre energia che manda corrente elettrica al cuore, al fegato, i reni, allo stomaco, al cervello. Ma a qualcuno non ci arriva lo stesso. Anziché mandare questi impulsi, questi cavi elettrici che mandano elettricità ai miei organi per farli funzionare. No, basta, fine, tira giù il contattore, basta energia. Non produco energia, i miei organi non funzionano, non solo. La cellula dice che con tutto quello che arriva devo fare qualcosa. Produzzi radicali liberi, che sono scarafaggetti, che vanno in giro per l'organismo a mangiarsi elettroni di elementi sani. Sorrido perché le sue metafore e i suoi esempi sono sempre molto, diciamo così, chiarificatori, no? Insomma, spiegano esattamente che cosa succede. Io voglio capire, quindi quando vedo nomi strani, prodottasi, prodottasi, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è delle robe dentro il mio organismo, prodotte dal mio organismo a causa dell'ossidazione e del caldo, che non è solo sono stanco perché è caldo, no, dimmi che cosa succede e devi dirlo facilmente. Come lo vorrei sentire io? C'è proprio un processo fisiologico al quale andiamo incontro quando le temperature superano una certa soglia. Chimico e fisico, la temperatura rovina la cellula che anziché produrre l'energia vitale per far funzionare gli organi, lei entra a casa, tira giù il contattore, non può dire, oh, si è rotta la lampadina, si è rotta l'aspiratore, si è rotta la cucina, si è rotta il fondo. No, manca energia, tiri su, guardi che funziona tutto. Quindi la genialità della farmacologia e di certa medicina e di certa sanità mondiale è, non vi preoccupate, non andate al contattore, se è rotto la lampadina, cambiala, se è rotto il fondo, cambialo, che te lo vendo io, se è rotto il fondo, cambialo, cambialo, no, arriva un tecnico erborista che come tanti altri onestamente ti dice, aspetta, potrebbe essere che non hai il fegato, i reni, lo stomaco, l'intestino, il cervello, i muscoli, può essere che non arrivi energia per quello che non funzionano, va a vedere il contattore e se i miei vanno a vedere il contattore, perché c'è un test da fare gratuito, vanno al contattore a vedere e si rendono conto che è abbassato e chi l'ha abbassato? Lo stress ossidativo che ha messo in condizione le cellule anziché di produrre energia, quella che mi fa camminare, parlare, pensare, ridere, piangere, soffrire, reagire, portare la cagnetta al fiume, portare i nipotini, no, anziché, oltre a quello, non manda energia agli organi per funzionare, e il cuore soffre, si stanca, è faticato, le arterie e le vene si induriscono o si prolassano, i muscoli non rispondono, non sono nutriti, i capillari si atrofizzano, è un disastro, è un disastro, si chiama stress ossidativo, innescato da mille fattori, ma in questo periodo il principale responsabile è il caldo. Cosa fare? Sì, quello che diceva la nonna, no, non metterti al sole, a luna, bevi ogni tanto, tieniti idratato, e va benissimo, è giusto, ma combatti lo stress ossidativo, non lo fai né col cappello di paglia, né col bicchierino di cedrata, né con l'acqua, quello serve, ma lo stress ossidativo è una roba seria, e va combattuta con una roba seria, che si chiama Redberry, selvaggio del Quebec, che il creatore, che la natura ha deciso, debba essere composto in quel modo, perché il creatore sa ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi Redberry, selvaggio del Quebec, adesso ci fermiamo Gian Paolo per una brevissima pausa, appena rientriamo ci spiegherà effettivamente quali sono i benefici sulla nostra salute. Va bene, abbiamo una settimana per dirlo. Erbe medicali presenta Usa Redberry, il ringiovanente che fa stare bene, immediata energia fisica e mentale. Usa Redberry, il Redberry palustre selvaggio del Quebec, l'originale di Gian Paolo Tocco. Il vostro rimedio efficace e immediato, contro la stanchezza e la spossatezza. Il vostro ringiovanente che fortifica il corpo e sveglia la mente. Disintossicante, depurativo, per ritrovare i corretti valori di colesterolo e glicemia. Il vero ringiovanente della pelle e dei tessuti muscolari. Il Redberry palustre selvaggio del Quebec, che compone il preparato alimentare Usa Redberry, rivitalizza l'intero organismo, tonifica il cuore, le vene e le arterie, per riportare a valori normali la pressione, riapre i capillari per ridare vita al cervello e per proteggere la retina, migliorando la vista. Il Redberry palustre selvaggio del Quebec è il potentissimo antiaderente batterico, che protegge il tratto gastrointestinale e urogenitale dalle infezioni batteriche, sconfiggendo le cistiti e le altre possibili infezioni del tratto urinario. L'azione del cranberry selvatico è inoltre un'ottima protezione e prevenzione contro le patologie che colpiscono la prostata. Solo nei terreni selvaggi e incontaminati del nord del Canada nasce spontaneamente il mitico Redberry palustre selvaggio del Quebec, che noi trasformiamo in uno spettacolare preparato alimentare che da oltre 27 anni entra nelle vostre case, portando energia, salute e vero benessere fisico e mentale. Chiamo a subito per verificare la disponibilità dei prodotti e prenotare l'offerta speciale di oggi. Una confezione di USA Redberry da 30 compresse a base di Redberry palustre selvaggio del Quebec a soli 19 euro più spese di spedizione invece dei 29 euro del listino. E oggi puoi richiedere tre confezioni di USA Redberry da 30 compresse ciascuna in offerta speciale a soli 49 euro più spese di spedizione invece degli 87 euro del listino. Ma non perdere l'offerta bonus salute USA Redberry che consente di acquistare 6 confezioni di USA Redberry da 30 compresse ciascuna a soli 89 euro invece dei 174 del listino. Chiama subito il numero in sovraimpressione e approfitta delle offerte. USA Redberry tutti i giorni l'antiossidante selvatico che ringiovanisce la mente e il corpo e che riporta l'energia della giovinezza rimettendo in moto l'intero organismo a qualsiasi età. USA Redberry funziona! Bene Gian Paolo siamo rientrati in studio dunque il caldo e l'estate appunto in generale toglie energia, si fa fatica a fare qualsiasi cosa ci si sente spossati e appunto lei ci stava spiegando qual era il meccanismo che porta a tutto questo insomma. C'è la possibilità però di recuperare questa energia attraverso un importante antiossidante che guarda caso troviamo in natura. Troviamo in natura che ci viene regalato dalla natura ce ne sarebbe tantissimo se non avessimo sporcato il pianeta ma pensi l'Europa che si è fatto le bottigliette col tappo il tappo deve essere attaccato perché salveremo il pianeta ma andatevi a nascondere fate cose serie vietate la natura dei terreni vietate l'utilizzo delle plastiche ma hanno fatto il tappo che deve essere attaccato la bottiglietta sti mangiasoldi inventori di cazzate che salveranno il pianeta perché sa avendo il tappo attaccato il ragazzino non la butta più via la bottiglia dice no c'è il tappo attaccato non posso buttarla via fate robe serie la prima rispettate i terreni il redberry la gente non dovrebbe comprarlo da me il redberry selvaggio la gente non dovrebbe comprarlo da me non dovrebbe comprare in farmacia dovrebbe poterselo mangiare se noi come ai tempi miei come dice Vasco che si potevano mangiare anche le fragole mangiava le fragoline di bosco andava giù la gallina aveva appena fatto l'uovo te lo foravi la mangiavi dice no sta fermo che è appena uscito e che fa basta che non vai lì ed era ancora tiepido del sederino della gallina buono e la gallina mangiava il grano mangiava l'erbetta non le fesserie abbiamo sporcato il pianeta è rimasto pochissimo pianeta pulito dice ma la Polinesia ci fanno gli esperimenti nucleari beh in Africa ci fanno le guerre sa dove è il terreno ancora buono dove per interessi internazionali in Afghanistan in Persia coltivano le droghe là non vede una bomba esplode là stanno tutti attenti americani, russi, cinesi là non tira una bombetta neanche a morire perché? perché c'è la droga che servirà per fare fatturato se questa attenzione ce l'avessero anche nei confronti dei frutti e delle bacche umili noi avremo una sanità che spende un decimo e poi uno dice sì ma se spende un decimo vuol dire che guadagnano molto di meno e siccome il guadagno è il dio oggi della sanità della difesa della politica di tutto nessuno pensa che rovinando i terreni noi ci stiamo rovinando grazie a Dio sono rimasti pochissimi terreni vergini uno di questi è nelle torbiere del Quebec dove non c'è niente dove non si può arare non si possono utilizzare sostanze chimiche dove nasce spontaneo una bacca che si chiama canamberge selvaggio del Quebec il red berry selvaggio del Quebec poi mille imitazioni io lo vedo in Facebook ho migliaia di persone che mi dicono complimenti abbiamo provato altri prodotti acqua fresca lo ha fatto altro consumo è andato a esaminare una montagna di prodotti e ha detto non è che il cranberry non funzioni è che nei prodotti comprati non c'è dentro niente o se c'è dentro il cranberry non ha proprietà organolettiche adeguate qui siamo di fronte ad una bacca selvaggia piena di antiossidanti quelli che servono di minerali di vitamine che entrano nell'organismo e distruggono quei radicali liberi quegli scarafaggetti che vanno a rovinare le cellule impedendo alle cellule di produrre energia anzi di produrre altri scarafaggetti quindi l'equazione è semplice caldo uguale stress ossidativo stress ossidativo uguale radicali liberi radicali liberi uguale ruggine che distrugge il mio organismo e non consente alle cellule di produrre energia domanda ad un bambino di 5 anni perché durante la stagione calda e il caldo non produciamo energia e il bambino di 5 anni deve dopo una nostra trasmissione poter rispondere se no io ho parlato a vanvera io non sto parlando con i genialoidi o con gli scienziati io sto parlando con le persone come me che hanno bisogno di sapere e capire in maniera facile allora Gian Paolo questo Redberry diceva cresce spontaneamente quindi non c'è nessun tipo di coltivazione no ma lo si vede uno diceva sparafesserie lo si vede dall'esame organolettico qui non c'è chimica e la concentrazione il terreno dà in abbondanza nutrienti alla pianta la pianta li elabora li trasforma e ce li dà noi dobbiamo saperla lavorare ecco questo infatti quello che volevo chiedere è se è possibile diciamo così trasferire tutti quelli che sono i principi attivi dalla bacca alla pasticca se io non trasferisco almeno il 95% dei principi attivi non produco ecco perché ci sono anni in cui io faccio 350-400 mila confezioni anni in cui faccio 200-220-230 mila ma i terreni sono gli stessi la produzione supergiù è la stessa sì ma se in quell'anno c'è stato più caldo o più freddo più pioggia o meno pioggia la concentrazione in principi attivi di queste bacche varia io nella compressa che do a quella persona lì a casa che adesso sta guardando devo garantire che ci sia il 16% almeno il 16% in principi attivi che corrisponde a un etto di frutto fresco se quella compressa va al 14% o il 13% basta rifare l'astuccio e scrivere 13% no se io parlo bene di una roba che ha un motore 3000 e ti dico quando acceleri bruci l'asfalto poi dici vabbè ma abbiamo solo motori 8,50 e montagli su un 8,50 è corretto? no ti sto promettendo una macchina che va a quella velocità e che brucia l'asfalto quando acceleri deve avere quel motore ti sto dando una compressa che è un etto di redberry che ti deve dare energia e ti deve ringiovanire l'intero organismo Gianpaolo questa bacca è possibile che venga assunta da chiunque anche da coloro che stanno magari sostenendo delle terapie farmacologiche importanti? allora devo essere più semplice possibile una compressa barra due compresse al giorno chiunque medici dicono anche il bambino di un anno la può succhiare lei sa quanto sono apprensivo lei sa che quando in macchina i bambini gli do la gomma americana guardo più lo specchietto che la strada perché ho paura che si strozzano quindi sono apprensivo su queste robe non sono un eroe sono piuttosto paurosetto quindi parlo dai 5-6 anni il tempo in cui un bambino abbia capacità di masticarsi la caramellina fino all'ultimo giorno di vita fino a una o due compresse non ho nessun problema ma in caso di donne con la cistite uomini con la prostatite persone di una certa età con un calo di energia forte che hanno voglia di prendersene 3 di compresse in alcuni giorni 4 di compresse la raccomandazione è solo nel caso in cui ci sia una terapia scoagulante forte no l'aspirina i comadini i comadini i comadini i varfarinici cioè forti scoagulanti meglio parlare con il medico perché ci sono medici che sono integralisti e dicono no 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 tu devi prendere le pastiglie punto basta e quella roba lì massimo ne prendi una altri medici che dicono aspetta quando facciamo le valutazioni del tuo sangue vediamo se eventualmente abbasso un po' i farmaci e ormai sono tantissimi i medici che esami ematici alla mano stabiliscono di ridurre il farmaco che è prezioso e non va mai modificato dal paziente è il medico che decide ma molti medici ormai dicono beh con un buon fluidificante come Redberry io posso ridurti la compressina della pressione la compressina degli scoagulanti e così via quindi sono nel caso in cui si facciano terapie forti scoagulanti con comadine o col varfarin con comadinici o varfarinici oltre la compressa 2 meglio parlare con il medico e valutare insieme tutto il resto non esiste antibiotici antinfiammatori qualsiasi alimento qualsiasi farmaco non interagisce solo in un caso che mi sembra sia un caso su 2 milioni in cui c'è una dichiarata intolleranza allora lo mangio mi gratto un pochino ne prendo un'altra mi rigratto vuol dire che sono intollerante mi dispiace per loro prenderanno la curcumina come antiossidante benissimo quindi invece in tutti gli altri casi appunto è possibile anzi è consigliabile l'assunzione di questa compressa se fosse possibile almeno 2 al giorno almeno un paio al giorno specialmente adesso che è un bel caldino ma anche in altri periodi dell'anno in cui c'è il pericolo per esempio della migrazione del batterio ecoli dall'intestino all'apparato urogenitale come dicevo la dottoressa che collabora con noi dottoressa rigorosa ha dovuto ammettere io con il berri tuo ho risolto i miei problemi di cistite ma soprattutto le cistite ricorrenti quelle recidivanti che sono noiosissime insomma è un bel capolavoro della natura del berri selvaggio e l'energia torna e l'energia è la prima roba che sento benissimo grazie a Giampaolo noi l'aspettiamo presto molto volentieri grazie a voi grazie a lei Barbara grazie a tutti